Allora siamo di noi in compagnia sempre del dottor Federico Dallarosa, dico dottor Federico Dallarosa perché Fred ha... Siamo amici da una vita, io la Elena mi chiamo dottor Dallarosa e il mio papà era dottor Dallarosa, io sono Fred. Fred con questo simpatico manuale divertiamoci perché ci divertiamoci con un test, io e Gioco test, gioco test per tutte le coppie, allora entro sempre più nemmeno. E continuo a sottolineare tutte le coppie, anche quelle omosessuali, che si possono divertire anche loro a fare il linguaggio usato in maniera tale che si parla di partner e le situazioni sono capitano, tutto il tipo che siano coppie etero o omosessuali, le situazioni sono sempre quelle. Assolutamente sì, parte sei romantico-romantica, quanto il narcisista, commentami questa cosa Questa qui è sul capitolo dedicato a sei narcisista o quanto sei narcisista, questo è un classico, la vignetta narcisista, io con il quadro che si è fatto, che lo rappresenta alle sue spalle e il narcisismo purtroppo è uno dei... Sei una patologia, è una cosa che dilaga, basta vedere le persone che si autesaltano non è il web. Però c'è da distinguere questo, il narcisismo, quello di chi ci sta, ci mette un selfie al giorno sulla pagina Facebook, non è un narcisismo dannoso. No, assolutamente, è un narcisismo normale, siamo nella società dell'immagine, vogliamo piacere, ci sta, ci sta benissimo. Dov'è che è il limite che può essere dannoso? Qua stiamo parlando di coppia, quindi è una relazione di coppia. Purtroppo è il problema delle malattie psichiche, che hanno un nome che sembra una caratteristica. Cioè? Depressione. Hai depressione? No, la depressione è una malattia gravissima, però se uno è un po' giù di morale, cosa gli si dice? Sei depresso. Sei, ti vedo depresso. L'ansia, l'ansia può essere una malattia gravissima, se uno è un po' preoccupato prima di un esame, ti vedo ansioso. Il narcisismo è la stessa cosa, il narcisismo patologico è una malattia gravissima, però lo usiamo anche come quello che un po' si fa i selfie, è come sei narcisista. Purtroppo, e questo è sempre per il solito problema, cioè stemperare il disagio mentale, rendendolo quasi simpatico in qualche modo. Il narcisismo può essere un semplice vezzo delle persone che si piacciono e può essere anche una patologia molto grave. quando sei in un rapporto di coppia e si incontra un narcisista, sono guai. Ecco, spiega proprio perché non se ne parla mai. Quando, in base a voi che siete psicologi, per cui tu che hai fatto anche degli studi, c'è quella sintomatologia che dice attenzione, si accende la lucetta, questo potrebbe essere una persona che… Fondamentalmente un narcisista è anaffettivo. Anaffettivo. Sì. Non è in grado di… Mette al centro i suoi bisogni e non prende in considerazione minimamente i bisogni del partner. Quindi questo da qua possiamo già avere dei segnali su… se critichiamo il partner perché si fa tanti selfie. No, quello ci va benissimo. È un gioco. Facebook e i social sono un gioco che può… Devono restare un gioco. Devono restare un gioco. Perché adesso degenerano e sono diventati una forma di comunicazione del proprio pensiero. Perché… no, giochiamo con i social. Meglio le foto dei selfie, queste cose qui van benissimo. Il problema è quando esprimiamo il nostro pensiero sui social. È lì, fatevi le foto, fate delle belle foto, condividete i vostri gusti, le cose. Purtroppo quella frase lì, che cosa stai pensando su Facebook, è un po' una trappola. Quello che state pensando, quello che stiamo pensando teniamocelo per noi. È anche meglio, anche perché resta indelebile. Allora, il narcisista… Attenzione al patologico, quindi quando una persona… Però è una malattia quella, ci si confonde. Quello è un narcisista. Ma si può essere narcisisti… Ma fa male il narcisista normale nella coppia, può essere un po' non ipatologico, non crea problemi. Assolutamente no. Se però l'altro partner la cosa dà fastidio… Sì, cambia partner. Cambia partner, è semplicissimo. Se gli dà fastidio cambia partner, nel senso che il narcisismo è un po' uno che si piace o una che si piace… Il problema è anche che prende sicura di sé. Non c'è niente di male. Romanticismo, qua c'è un capitolo. C'è il capitolo, se sei romantico oppure no, se sei romantico oppure no. E beh, vabbè, il romanticismo è un po', forse quello è il capitolo un po' più spiritoso, insomma, perché il romanticismo… Che cos'è nel 2021 il romanticismo? Da psicologo è occuparsi delle esigenze del partner. Se il partner ha bisogno di qualche attenzione, di qualche carezza, di qualche regalino, di qualche cena fuori, chi se la può permettere in questo periodo, facciamolo, insomma. Ci sono persone che non sono romantiche, però se il proprio pattern è romantico ci si può… Quindi magari facendo questo piccolo test… Vedi alla fine qual è il tuo grado di romanticismo. E poi ci sono qualche suggerimento? C'è qualche piccolo suggerimento, sì. C'è qualche suggerimento che forse è il momento per magari una coppia che insieme da tanto tempo, forse è il momento di risvegliare un po' il romanticismo. O la passione, c'è il capitolo dedicato alla passione. L'entriamo un po' più nel piccantino. Nel piccante, sì, sì, è giusto. Insomma, per esempio, condividere con il proprio partner le fantasie erotiche è una cosa molto bella, molto bella. Quello è segno di una coppia che funziona. Questo può essere una cosa importante. Assolutamente, sì. Ma anche lì c'è sempre il limite, no? Perché… Eh, non ci devono essere limiti. Eh no, la fantasia è una fantasia. Ah, va la fantasia. Cioè, metterla in pratica, si può anche farlo, anche metterla in pratica, ma poi ovviamente si deve essere… Si, passare dalle parole ai fatti è un po' più complicato. Però almeno parlare di una fantasia, la fantasia non fa male a nessuno. Quindi stai qua, siamo entrati nella comunicazione. Esatto. Secondo me è un altro aspetto, perché qua c'è proprio la comunicazione. Certo, che è un'arte. La comunicazione è un'arte. E noi siamo fantastici all'inizio, quando c'è il gioco di seduzione, diventiamo comunicatori eccezionali. Ah, fabulatori. Tiro fuori tutto il meglio. Elena, io sono così, io farò questo per te. Poi dopo, nel momento in cui ci mettiamo insieme, eccetera, eccetera, la comunicazione svanisce e mi trovi a sciabattare per casa con la canottiera sporca e niente mutande. Quindi è chiaro che lì passi e dici, ma come? Ma quello non era quello che... Purtroppo no. Ma forse è solo questo. Questo secondo me è anche poco, perché comunicare è anche l'esprimere i propri desideri, il stato d'animo. I propri desideri, i propri bisogni. E lì non è sempre facile, però. No, non è facile. Anche quando intervengono i figli, perché poi credo, tu hai detto, tutte le coppie, anche le coppie soprattutto che hanno figli, penso che si trovino poi in difficoltà a comunicare, perché parlano sempre, comunicano... Perché devono comunicare con i figli, che sono... E il recupero delle comunicazioni di coppie. ...comunicatori più difficili in assoluto, soprattutto in età preadolescenziale, adolescenziale, però insomma in quel caso lì il rapporto di coppie si è talmente solidificato, dovrebbe essersi talmente solidificato, che diventa un progetto, un'alleanza, cioè quando hai dei figli... Eh no, perché manca la comunicazione quella intima di coppia, è quello il problema. Cioè ci si arriva, cioè non si possono fare figli se prima non si è passato per le Ma il figlio diventa il risolutore di tanti problemi. Eh no, e quello è l'errore. Quello è l'errore, fare il figlio, o la coppie in crisi, come diceva Massimo Troisi, quando i fidanzati sono in crisi si sposano, quando il marito e moglie sono in crisi fanno un figlio. No, questo è sbagliato, cioè quando si è in crisi ci si molla, o si cerca di risolvere la crisi con uno psicoterapeuta, insomma. Che anche quello può essere utile. C'è qualcosa di psicoterapeutico in questi test? Ci sono assolutamente, sì, ci sono assolutamente certe... ci sono... chi raggiunge un profilo sbagliato è meglio che... gli si spiega che bisogna fare attenzione. Per esempio nel capitolo dedicato alla gelosia... Cioè te ero arrivata là, sei geloso, sei geloso. Allora, togliamoci dalla testa che la gelosia aiuti la coppia. Eh, tanti invece hanno questo... vuol dire che ci tengo a te, vuol dire che sei importante, altrimenti se non provo... Scappate dalle persone gelose, cominciate a correre adesso, anche se siete lì, non so, sul divano, che guardate la trasmissione, avete le pantombe, cominciate a correre, cominciate a correre, le persone gelose vuol dire che devono prima fare un lavoro su se stesse e poi sono pronte per la relazione, bisogna essere pronti per una relazione. Ma tante volte la gelosia resta, si incancrenisce nell'ambito della coppia e diventa anche oggetto di furiose litigate, quando meno una persona se l'aspetta, appunto, rapporti tra colleghi, il collega che può essere più presente... Il collega più figo, un nuovo collega figo, che vedi tutte... Non si può... Ma si guarisce della gelosia? Assolutamente sì, perché la gelosia è legata a... è un sintomo dell'ansia e della depressione, della scarsa autostima. Anche della depressione? Certo, assolutamente, quando si è molto depressi si tende a sentirsi... si diventa particolarmente gelosi. Eppure tante volte gelose sono persone che sembrano molto... Sembrano! Infatti dico sembrano... Sembrano, sembrano, no... Sono molto fragili? Persone gelose sono molto fragili, sono molto... è normale essere gelosi a 20 anni, perché a 20 anni si è psichicamente fragili, si deve ancora vedere tutto il mondo, si devono fare... ma che ci siano persone di 50, di 60 anni che sono gelose... no ragazzi, assolutamente... a meno che qualcuno non ti metta nelle situazioni di doverlo essere geloso, perché... Sì, però questa è una... non va bene, non va bene, perché la classica... è la classica... Sì, però un po' di gelosia ci vuole in un rapporto? No! No! Togliamocelo dalla testa! La gelosia è sbagliata, è oggettivizzare il proprio partner, come se fosse una cosa tua, gli esseri umani non sono di proprietà di nessuno, se no siamo come i talebani che mettono... Fred, come psicologo, se per una persona che vedi che è sempre equilibrata, tranquilla, nell'ambito della coppia si fida, perché la fiducia c'è la sfida, però in un certo punto ha il sintomo della gelosia, non può essere il sintomo che l'altra persona sta prendendo altre vie? No, di solito prima viene la crisi di coppia e poi il tradimento, questo è l'ordine, magari in questo momento la mia compagna sta guardando la trasmissione insieme a Ruggero, e se la ride... E se la ride... Vabbè, insomma, comunque anche bisogna anche accettare chi non ha avuto almeno una volta nella vita un bel paio di corna, però parliamoci chiaro, la gelosia non va bene, attenzione alle persone gelose, perché anche quello è degenerativo, si comincia con... ma perché sei andata fuori con le amiche e... ma anche... va bene anche dall'altra parte, attenzione, perché anche le donne gelose possono condizionare negativamente, per esempio la carriera lavorativa, se fanno continuamente telefonate in ufficio, in studio, così alla fine possono... quindi così come anche l'uomo può condizionare la carriera lavorativa della donna e la segue sotto l'ufficio per vedere i colleghi... Ma questo è molto frequente, perché quando noi parliamo poi di degenerazioni, di violenza, che purtroppo ben sai, sempre più numerosi... quando vedete una cosa del genere lasciate il partner... ecco, però tu adesso ci ascoltano anche persone... io so che farò arrabbiare tante persone dicendo queste cose qui, tanto ci sono i social, ditemene tutti di colori lì là, bisogna lasciare il partner, nel senso che anche questo è uno dei problemi dei rapporti di coppia, cioè l'incapacità di accettare la solitudine e il cambiamento. Eh, ma non si può guarire, non si può sanare questo problema. Si, si può sanare se si va in terapia, ma se non si va in terapia è meglio lasciar perdere. Quindi ipotizziamo che chi ci ascolta non sia coinvolto direttamente, sia genitore di persone, perché a volte anche quello, ci seguono persone che hanno anche una certa età, ci dicono a mio nipote, ecco, ma non direttamente interessato, mia figlia, mio figlio è in questa situazione. Se vostra figlia, vostro figlio insieme a un partner geloso, ossessivo, che dice non fare questo, non fare quello, non uscire, non andare, non fare chi hai visto, chi è quello, chi è quella e cose di questo genere... Consigliateli di... Consigliati innanzitutto di non fare figli, se li hanno già fatti, comunque andate da un bravo psicoterapeuta, perché comunque devono farlo, perché o da solito... Quindi non sottovalutare questo, questa è una cosa importantissima. È importantissima, è importantissima che poi degenera. Social e vita di coppia. Anche lì, i social, quando leggo che i social rovinano le coppie, ma non è vero, non solo in America il 50% delle nuove coppie si è formata sui social, quindi, allora, come fanno a rovinarli se in realtà creano le coppie? Ma vuol dire che ci può essere il tradimento online? Sì, ma come può esserci da qualsiasi altra parte il tradimento, cioè non esiste, se si arriva a tradire tramite i social vuol dire che la coppia è già bella e che è decotta, se il social trovi un ex, un corteggiatore, una corteggiatrice, se il rapporto di coppie è solido, gli dici, magari mi fa piacere che mi fai un complimento, ma basta, finisce lì. Se invece subito dici, ah sì, vediamoci, Elena, io e te, dai, di nascosto, allora vuol dire che né io né te stiamo tanto bene con quello che abbiamo a casa. Bravo, bravissimo, bravissimo, se finissi in un'isola deserta, che cosa vuol dire? Ecco, quello è un po' la versione Covid del test, cioè la convivenza forzata, quello che ci succede in maniera spiritosa, io ho messo l'isola deserta per parlare di convivenza, insomma, e anche lì se tu reagisci bene nell'isola deserta con la tua compagna o il tuo compagno, infatti le coppie che sono sopravvissute al Covid hanno sicuramente una marcia in più, sicuramente avranno litigato anche loro, avranno avuto le loro frustrazioni, il senso di soffocamento, eccetera, però se sono ancora, si vogliono bene dopo l'esperienza del Covid, vuol dire che sanno sopravvivere insieme in un'isola deserta. Ed è una cosa di poco, non è una cosa di poco conto? No, assolutamente, assolutamente. Bonus track? Bonus track sono le vignette, sono delle vignette che ho aggiunto sulle... Ecco, perché lo ricordiamo... Ogni buoni book ha il bonus track, come ogni CD o come ogni film, c'è sempre tutto quello che su supporto elettronico ha una piccola sorpresa finale. Ah, bello, perché lo ricordiamo, ne abbiamo parlato tanto, adesso in modo anche serio e concreto da Fred professionista, è un test simpatico. Sì, così mi stupisco, sono parlato troppo seriamente. No, ma è un test simpatico, per cui c'è... No, no, è molto comico, non a caso c'è... Ma serio, c'è un fondamento serio, non è una cosa comico, però dietro c'è uno studio, questo bisogna sempre ricordarlo. Se risultate il profilo migliore di tutte queste alternative che ci sono trovate nell'ebook, siete pronti per un buon rapporto di coppia. Quindi vuol dire che il partner è quello giusto, che non è cosa di poco conto, tra l'altro. Esatto, assolutamente. Ma non c'è capitolo tradimenti. Perché il tradimento arriva dopo la crisi della coppia. Non arriva, il tradimento non arriva, non c'è... Quindi Max gli dà la redenzione o no? Cioè, ipotesi, c'è questa benedetta persona che si fa questo test e sa che in corso l'ha combinata. L'ha combinata grossa. C'è la redenzione oppure no? È possibile... Non sono Papa Francesco io. No, 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 la redenzione nel senso di dire è possibile un recupero di coppia oppure... Assolutamente sì. Assolutamente sì. C'è quindi possibilità di sanare queste problematiche. Se un legame è forte, se ci si vuole davvero bene, si può anche... Questo non deve essere un patentino. Allora, mi hanno detto in televisione che posso fare i corni in giro. No, no, assolutamente. Però si può sbagliare nella vita. Quello che deve essere importante è se un rapporto di coppia... che vuole durare, deve anche accettare gli errori del partner. Quindi vanno messi in conto nel... Non è che vanno messi in conto, un corno mi arriva. No, anzi, quello no. Però bisogna parlarne chiaramente, bisogna parlarne apertamente. Appunto, come dicevo, le proprie fantasie. Spesso si arriva al tradimento perché con il partner non si fanno certe cose che si vorrebbero fare. Perché andare tra die per forza? Ma si possono fare insieme al partner. Ecco, adesso qua mi scomunicano. Aiuto, aiuto. Un consiglio, un consiglio, quale potrebbe essere? Allora, cito uno studioso francese dell'argomento coppia, di cui non mi ricordo il nome, perdonatemi, appunto io non sono un clinico, sono un psicologo del lavoro, che dice che la coppia perfetta è composta da tre elementi. Ci sono lui, lei, in caso di una coppia omosessuale, lui, lui o lei, lei, e la coppia. Cioè, devono essere tre elementi. Quindi mantenere la propria individualità. Mantenere la propria individualità, i propri spazi, i propri interessi, la propria libertà. Così la coppia funziona. E soprattutto funziona se acquista il mio e-book Io e Test. Questa è un'altra cosa, eccolo qua, Io e Test. Un'altra cosa, quanti dei tuoi interessi per andare avanti, abbracciati, tranquilli, sereni, è bene anche che a volte convergano, quindi ci siano delle passioni che a volte è bene fare insieme, cose fare insieme, insomma. Ma se ci sono meglio, ma non è necessario, non è necessario, anzi, è necessario il rispetto delle passioni e degli interessi del partner, anche se non ti piacciono, anche se non li condividi, però devi rispettarli. Rispetto e comunicazione, forse sono due aspetti. Rispetto, stima e comunicazione. Queste cose funzionano il più del colpo di fulmine. Perché poi l'affetto, l'amore, insomma, quello deve durare tanto tempo. Il colpo di fulmine può, se poi c'è anche il colpo di fulmine, meglio ancora. Cioè, però, non ci sono coppie perfette, non ci sono coppie, quelle le guardiamo nei film, e le guardiamo in televisione, che poi non... Anzi, ormai non si vedono neanche i film. Allora, Fred, grazie mille di questo modo anche di vedere più simpatico e delle soluzioni possibili, perché, insomma, facendo questo test lo farò, lo voglio vedere. Sono troppo curioso ormai. Prima di tutto per divertirci. E poi anche vediamo se qualcuno porta a casa qualche piccolo risultato. Scrivetegli sul web se avete qualche risultato, così potete reagire direttamente. Grazie ancora, grazie a voi telespettatori di averci seguito. Come sempre le nostre puntate le potete vedere in replica sul web, sul nostro sito. E appuntamento, buona serata, appuntamento a domani. Grazie.